La quindicesima edizione di Angeli Musicanti Festival propone una programmazione minimale ma di altissimo livello con alcuni dei più interessanti artisti contemporanei della scena musicale internazionale. Il titolo di quest'anno della rassegna è Classica Contemporanea, un altro sentire. Per la prima volta Angeli Musicanti si svolgerà al Teatro Mercadante a voler dimostrare lo sdoganamento possibile della musica jazz classica contemporanea anche in altre atmosfere, come spiega il direttore artistico Paolo Uva. Un cambio location, diciamo che le nostre passate edizioni fatte al Teatro di San Carlo hanno avuto il giusto clamore che hanno avuto, il giusto senso che hanno avuto e molto probabilmente si può fare musica classica anche fuori dal Teatro di San Carlo, considerando che anche il Teatro di San Carlo fa musica non classica. Quindi diciamo questa trasmutazione di possibilità è una cosa molto evolutiva soprattutto per Napoli. Ci saranno delle possibilità visive e uditive da parte del pubblico che potranno interagire in un concerto doppio dove praticamente c'è il ripascaggio e rivisitare degli antichi autori che hanno fatto la storia della musica. Due gli appuntamenti previsti, uno il 20 dicembre e l'altro il 1 gennaio, che rendono omaggio ai grandi compositori della musica classica, da Verdi a Rossini, da Wagner a Bach, da Scarlatti a Satie. Il musicista Vito Ranucci, in trio con Federica Mazzocchi e Mauro Smith, si esibirà in Killing the Classics. Un concerto che abbiamo già presentato ad Amsterdam a Berlino, tra un po' andremo a Parigi, siamo molto felici di essere qui e di poter fare questa cosa nella nostra città a Napoli, attraversa diciamo mille anni di storia di musica, attraverso delle coordinate elettroniche post contemporanee, insomma, quindi una cosa un po' trasperimentale, classica e musica commerciale. Grazie. Grazie.